Uno vive, l'altro muore. Ma che vita! Che morte! Quale è il significato nel cosmo? Noi siamo sempre in questo gioco eterno tra la vita e la morte, ma ancora non conosciamo il significato. Ma che cosa è questo? Io, voi, tutto e tutto il risultato della probabilità. Prima che ti troviate un bambino, di chi la vita si trova nell'equilibrio, testa il bambino vive, corre, ed il bambino muore. Non potete lasciare il bambino alla probabilità. Tutto è probabilità, il mio amico. È probabilità o è il destino? Papà! Giovanni! Papà! Giovanni! Papà! Giovanni! Dove è il nonno? È un posto migliore. Ma dove? È andato. Dove è? La morte ha preso lui. Preso dove? In un posto dove tu non vorresti andare. Io vedo che tu abbia preoccupato. Potrei chiedere perché. Io desidero trovare un paese dove la morte non arriva mai. Come è coincidente? Conosco il paese esatto. È probabilità o è il destino? Io credo nessuno dei due. Io credo nella tro. Perché non mi segue al mio palazzo. Io credo che incontriamo oggi per un ragione. Io credo che lui imbrugli io. Lui crede che lui vinca. Ma nessuno non possono sconfiggere la morte. Lasciasci le forze di opportunità. Va al diavolo. Lui morirà. Potrei aiutarti aiutare, buon uomo. Tu hai interessante in una milla? Veramente, ero quasi mangiare la mia cena. No, per favore. Suppongo che un morso non faccia male. Vecchio, vecchio, che è successo? Ho imbrugliato, ho infinocchiato, ho truffinato. La morte è arriva. Giovanni, nel garage c'è una bici. Passa la bici e guida a North Dakota. Un uomo ha chiamato Uggershmagen, sarà lì. Lui ti dirà che puoi fare. Ma qua che farai, il mio amico. Ricordate di non smontare la bici. Ma sarai incerto. Ti fidi nessuno. Come stai? Giovanni. Che? Giovanni. Papà? Personi non capiscono come fortunato ieri sono che non torzano vivere sempre. Loro hanno paura di che stare tomba. La morte non è pauroso. La morte è bella. Ho trovato questo nel pavimento ieri. Grazie, signori. Grazie. Grazie.